Buongiorno, TRG Mattino, venerdì 17 luglio, pronti per la rassegna stampa, partendo dalle prime pagine dei quotidiani regionali, Corriere dell'Umbria, in primo piano la cronaca, sequestrati 33 milioni a imprenditore, sigille immobili, conti correnti e quote di Gabriel Caraffini, già condannato per bancarotta Questa è l'apertura del Corriere che fu la fotonotizia centrale, invece mette la riapertura del ristorante del noto chef Umbro Vissani a Baschi, qui in foto con tutto il suo staff, il suo gruppo di lavoro, il noto ristorante di Baschi ha riaperto i battenti ieri sera con un evento conviviale dopo uno stop durato 5 mesi, questo per la cosiddetta Casa Vissani siamo nell'Orvietano. Fotografata sopra Perugia la cometa Neowise sui cieli dell'Umbria e poi il rilancio legge bonus interventi per 55 miliardi, approvazione definitiva da parte del Senato. Quindi le parole da parte della Presidente di Blu Gaigano, Cesaretti è in conflitto di interesse, sollevata l'incompatibilità tra la carica di Presidente Sase e membro del CDA della Fondazione Cassa di Risparmio. Ancora da Perugia per debito di droga Ruba Gioielli in casa, sempre Perugia, Pavone pronto per la prossima Primavera, Menta Gualdutadino stop ai Pascoli attorno al Laghetto. A Gubbio invece Santa Croce torna a risplendere. Nel taglio in basso le notizie di carattere sportivo, Grifo evitato sbagliare, lo scontro salvezza con la Cremonese, si gioca stasera al Curi alle ore 21. Fere, Gallo lascia con Garbo, rammaricato ma capisco dopo la notizia che non sarà il tecnico della Ternana alla prossima stagione Fabio Gallo. Quindi i motori, la MotoGP Alveda Ierez, Rossi pensa anche al 2022 e poi Zanardi, i medici di Siena diminuiscono la sedazione dopo il grave incidente che ha avuto l'atleta paraolimpico. Passiamo invece alla Nazione, la fotonotizia centrale riguarda lo schiaffo perugino così definito dal quotidiano Alvia L'Udienza contro Palamara. Quindi terrore Umberti, daggredisce una ragazza, semina il panico e sfascia un bar. Mentre per quanto riguarda la viabilità Umbra, Mela Secche, Fontiveggio è il nuovo capolinea della FCU. Ieri è stato proprio in visita alla FCU, proprio l'assessore ai trasporti. Quindi è pericoloso, confiscati 33 milioni si legge. Il maxisequestro di bene un noto imprenditore vive abitualmente anche di preventi illeciti. Ancora Vissani riapre il suo ristorante dopo cinque mesi sparando a zero e 25 onorificenze a Padre Giombetti, tra questi e Cavaliere al merito della Repubblica. Quindi nel taglio in basso la fase 3, Sagre e Via Libera madureranno quattro giorni, prevista per oggi la firma dell'ordinanza che riduce l'estensione delle manifestazioni. Passiamo allora al messaggero in primo piano, mascherine e pistola, rapina in villa. Spello, marito e moglie legati alle sedie e poi la razzia portati via con tanti ed oro simulato. Anche un guasto per il ride. Il primato nazionale invece riguarda i studenti Umbri, i più bravi d'Italia, maturità, record di lodi per i diplomati Umbri. Ancora dolcetti a luci rosse, solo sesso con gli amici VIP e niente, droga, un caso di cronaca che arriva da Perugia. Bancarotta, sequestrati, 33 milioni a imprenditore. Quindi il dramma di Terni, Gianluca e Flavio uccisi dalla droga si indaga sulla versione del pusher. Ancora Caso Palamara, primo round alla procura e quindi la Terni-Orte riapre il viadotto verso il ritorno alla normalità, ieri la visita del vice ministro Cancelleri e poi Perugia, la città risorge grazie ai cittadini volontari. Questo per quanto riguarda le notizie in primo piano sul messaggero, quelle di carattere sportivo, Grifo assalta la Cremonese, c'è in palio la salvezza, mister Cosme in primo piano, Ternana, tutto allenatore, spunte il nome dell'ex romanista Daniele De Rossi che ha da poco appeso i scarpini al chiodo dopo l'esperienza in Argentina al Bocai Junior. E quindi l'evento a Perugia, Jazz in August, la musica riconquista. La piazza se ne parlerà nella pagina di carattere culturale. Questo per quanto concerne dunque le notizie in primo piano sui quotidiani regionali. Passiamo allora ai siti internet partendo da www.trgmedia.it con la visita del vice ministro Cancelleri, come visto ieri in Umbria, in particolare sul viadotto Montoro che da oggi ritorna di fatto alla normalità riaprendo il traffico. Quindi ancora, anche qui con Fisca Record, la finanza congela 33 milioni di euro tra beni mobili e immobili e nei guai un prenditore Umbro per evasione d'imposta. Quindi ritorno il Festival Umbra in voce e poi tutte le altre notizie, anche gli studenti gualdesi che tornano protagonisti su Canale 5 nella rassegna Chuck Junior e poi il nostro archivio video sempre aggiornato www.trgmedia.it. Andiamo allora anche su Umbria On per quanto riguarda ulteriori news in primo piano. Su Umbria On c'è quella relativa al tavolo economico sindacale che è stato portato alla luce da la governatrice Tesei a Palazzo Donini, primo tavolo con associazioni e sindacati in vista del varo del documento di economia e finanza regionale, il DEFRE come anche si usa nell'acronimo. Tesei riunisce il mondo economico sindacale e promette una nuova visione del futuro. Anche qui viadotto Montoro, poi la maturità, l'Umbria tra i migliori diplomati d'Italia, pediatria, medici, superiore soccorso e triage, nessun impegno, bene rinforzi ma non è la svolta. Si legge questo dunque su Umbria 24. Vediamo anche tutt'oggi.info, anche qui in primo piano la situazione della viabilità e la visita del Vice Ministro Cancelleri ieri proprio in Umbria, soprattutto nella parte della bassa Umbria, viadotto Montoro riapre, Vice Ministro Cancelleri in visita al cantiere. Banca rotta fradolenta, ma si confisca da 33 milioni a noto imprenditore. Tifernate, si legge proprio sul tutt'oggi.info. Dunque questo per quanto riguarda le notizie in primo piano, ancora Umbria on, dunque area ternana dove resta ancora grande lo sgomento, nonostante si è passato ormai più di una settimana per il decesso dei due ragazzi minorenni per ufo di sostanze stupefacenti, ma anche qui riapertura ai vedotto Montoro, si torna alla normalità in primo piano, maturità 2020, Umbria seconda per l'Odi 4%, Covid Umbria 847 tamponi e 0 nuovi casi. Dunque questo per quanto riguarda la situazione su Umbria on. E allora torniamo alle prime pagine dei quotidiani, ripartendo dalle notizie di carattere nazionale e sul messaggero si parla delle misure anticrisi per ovviare a ciò che è stato il Covid, partendo proprio dal decreto da 55 miliardi, super bonus per case e auto, incentivi al 110% anche per il miglioramento energetico delle seconde abitazioni non di lusso, sconti per l'acquisto di vetture e moto, Euro 6 per le ibride e quelle elettriche, si legge per quanto concerne le misure anticrisi ormai divenute legge, con il voto di fiducia in Senato via libera definitivo al decreto l'Irancio, rinnovati i sussidi per le partite IVA. I punti chiave, cassa integrazione e proroga per quanto riguarda i contratti a termine, le pensioni di invalidità sono raddoppiate, rimborsi per viaggi e concerti, smart working anche per gli statali, IMU ridotta con la debito in conto e bonus affitti per piccole e medie imprese e anche i studenti. Questa è la situazione in 6 punti. La lotta al virus invece, contagi zero, obiettivo fallito, RT oltre il limite in 6 regioni bloccati gli arrivi dai Balcani. La scomparta del virus dal Paese era attesa per fine giugno, ma il traguardo è lontano, si legge sul messaggero. L'indice di trasmissione ora supera l'1% anche in Lombardia, l'1 scusate, anche in Lombardia. Nuova stretta sui voli, qui un po' i contagi dell'ultima settimana. Vedete Umbria 4 contagi, la voce da padrona la fa l'Emilia Romagna con 213, ma anche Lazio e Veneto sopra 100, oltre alla Lombardia che spadroneggia con 411 contagi. Salgono gli infetti, vittime oltre 35 mila, sono 230 i nuovi contagiati da Covid in aumento rispetto ai 162 di mercoledì. I nuovi positivi sono 80 in Lombardia, 46 nel Emilia Romagna, 29 in Veneto, 17 in Sicilia e 12 in Toscana. Dunque le altre regioni hanno incremento di una sola cifra, tranne Umbria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e provincia autonoma di Trento che non registrano alcuni nuovi casi. Studio Istat, l'89% dei positivi è morto per effetto diretto del Covid. Analisi su 4922 schede di vittime, solo per l'11% il virus è stato una concausa del decesso. Colpiti soprattutto i pazienti tra 60 e 69 anni, ma non è stato risparmiato anche chi aveva meno di 50 anni. Questo è il rapporto proprio fatto dall'Istat sulla mortalità del Covid, le cause della mortalità del Covid. E quindi il piano del governo, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti. La sottosegretaria Zampa si ha chiusure mirate ai test su chiunque entri in Italia. Preoccupa la diffusione in stati con cui abbiamo molti scambi, tra cui Israele e Spagna. I Ricciardi del Ministero della Salute ha dichiarato che con i nuovi strumenti di diagnosi si possono fare i controlli in pochi minuti. La Regione Lazio, che a terra Roma, va monitorato. Si esclude comunque un nuovo lockdown generalizzato. Minacce e spintoni invece. In spiagge la dura vita degli steward. Qui in tanti violano le regole. Viaggio tra i ragazzi che presidiano la costa tra Latina e Terracina per scongiurare gli assembramenti. Ci dicono tutti la stessa cosa. Siamo un nucleo familiare e noi non possiamo fare multe né farci dare i documenti. Questa è la situazione sulle spiagge, come recita il messaggero. Nazione, anche qui notizie di carattere nazionale. Imposte e contributi. In gorgo di scadenze. La tempesta perfetta che affonda il Paese. In ballo 246 adempimenti per aziende partite IVA già dissanguate dalla crisi della pandemia e si replica in agosto e poi anche a settembre. In Germania tasse rinviate in un anno. Francia versamenti posticipati di tre mesi. In Spagna imprese esentate per sei mesi. A Londra slitta il pagamento dell'IVA. Negli USA rimborsi e ritiro dei contributi. Questo negli altri Paesi. Il Governo invece in Italia ha alzato un muro alla richiesta di un rinvio delle tasse il prossimo autunno. I partiti di opposizione all'attacco. Forza Italia parla di girone infernale. Fratelli d'Italia vergognoso. Questo anche il dibattito politico attorno alle misure anti-Covid. Salgono in tanti positivi. Stop ai viaggi dai Balcani. In crescita anche i decessi. Il ministro Speranza di vieto di ingresso è chiestato in Serbia, Kosovo e Montenegro negli ultimi 14 giorni. Dunque questa è la foto che ha commosso un po' l'Italia. Addio a Rosa. La foto col marito che appunto è stata emblema di questo periodo tra gli ospedali. Questo l'abbraccio proprio di questa signora all'ospedale di Cremona. Gli ultravioletti e il virus lo uccidono subito. La statale di Milano, i raggi, agiscono in pochi secondi. Si parla in particolare di quella prodotta da lampade a basso costo al mercurio, ma anche i raggi ultravioletti del sole che hanno un'ottima efficienza nel neutralizzare il coronavirus, si legge sulla nazione. Intanto l'identikit dei nuovi contagiati. Il 30% arriva dall'estero. Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Giusto chiudere ai paesi dove ci sono focolai. L'età dei positivi si è abbassata, si ammalano di più i giovani. Troppo rilassati sulle misure di protezione, si legge in questa intervista fatta appunto a Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità di cui è presidente. Non ho mai creduto alla distinzione tra morti con o per coronavirus. In tante poi si ricorda sulla nazione proprio la fine di Raffaello ucciso da polmonite. è elaborata la sua morte a 500 anni di distanza, stroncato da una polmonita aggravata da un errore medico. Questo per quanto riguarda l'artista del 500, ricordato anche in Umbria nei prossimi mesi. Con ulteriori mostri proprio per celebrarlo. In primo piano sul Corriere. Via Libera ai 55 miliardi per ripartire. In foto il Premier Conte, ok al superbonus in edilizia e all'anticipo della cassa integrazione previsti in autunno. Il decreto rilancio ha superato il voto di fiducia al Senato e ora elegge. Il Governo l'ha voluto per fronteggiare l'emergenza Covid. Smart working è più lungo. Per il 50% dei dipendenti pubblici verrà prorogato per tutto il 2020. Nuovi incentivi in arrivo, sconti per chi acquista autovetture, ibride ed elettriche. Mentre Covid, anche qui causa diretta dell'89% dei decessi. Negli altri casi la morte si può ritenere dovuta ad altra malattia o circostanza esterna allo studio dell'Istat. Quindi questa foto che riguarda la cometa fotografata all'alba sopra Perugia. L'evento astronomico che interessa tutta Italia. Questa foto scattata da Michela Giorgelli, elettrice proprio del Corriere, all'alba di mercoledì alle 4 e 19, quando la cometa Neowise è comparsa nel cielo sopra Perugia. Questo proprio il suo scatto riportato proprio dal Corriere. E andiamo allora alle notizie di carattere regionale, sempre dal Corriere dell'Umbria. La cronaca in primo piano. Capitali illeciti e reati fiscali sequestrati 33 milioni a imprenditore pregiudicato. I magistrati nel provvedimento, Gaprio Caraffini negli ultimi 20 anni è stato al centro di una serie davvero impressionante di inchieste per bancarotta, si legge. Troppa differenza, esiste un'enorme sproporzione tra guadagni leciti e patrimonio milionario. In questa operazione è condotta dalle fiamme gialle. Per lui, per l'imprenditore, anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Intanto l'avvocato difensore annuncia ricorso, confisca, focce da fallite e locali in centro a Perugia. La ricostruzione un po' dell'imprenditore dal fallimento Trafomec ai Cinciamino, tutte le indagini su Caraffini. Indagato e poi posizione archiviata nell'indagine sulla trattativa Stato-Mafia è stato anche al centro del caso Ex Fornace. Qui in foto proprio la Trafomec di Tavernelle, al centro del caso Val Nestor. Poi Cesaretti in fondazione Carisp e presidente della SASE, Galgano, conflitto di interesse. Secondo la presidente di Blu, c'è una potenziale incompatibilità per il vertice dell'aeroporto. Allo Scalo giungono fondi dall'ente bancario. Rinnovo rinviato, il cambio di guardia dello Scalo è slittato intanto al 23 di luglio. Enac sulla scuola di volo, valutiamo la conformità alle norme del contratto. L'ente di aviazione civile dà la sua versione sul rinvio della firma adatta da destinarsi. Passando alla nazione, tra salute e diritti, pediatria, soluzione per sei mesi, poi ci sarà il bando. Risolta, almeno in emergenza, la vicenda del reparto a corto di persone, arrivano medici di altri ospedali con il comando. Il caso è scoppiato in seguito all'allarme di Dicara, senza medici. Chiudiamo, ha dichiarato. Il nuovo primario, gli organici e il progetto del pronto soccorso, i principali nodi da sciogliere. Intanto le parole da parte dei sindaci della Mediavalle del Tevere in pressing, Pantalla, riattivare tutti i servizi. In foto, Ruggiano, sindaci della Mediavalle, come detto, che stanno cercando di forzare i tempi, torni anche il 118 a Pantalla. Quindi, ancora, sempre per quanto riguarda il tema salute, dopo lo sballo non si fanno assistere super ticket a giovani e famiglie. Alcol e droga, la proposta del vice sindaco per chi, dopo le curi in ospedale, rifiuta un percorso di recupero. L'assessore regionale Coletto, contatti intanto il questore, lavoriamo insieme su questo delicato fronte. Qui in foto, il vice sindaco di Perugia-Tuteri, al suo fianco, proprio il questore del capoluogo, Antonio Sbordone. La regione avvia un sondaggio tra i giovani per analizzare disagi e problemi. Movida, in centro storico, controlli fino all'alba. Scatteranno alle 23 per terminare alle 5, tutti venerdì e sabato, sino alla fine dell'estate. Qui in foto, le scalette del Duomo di Perugia, luogo prediletto dalla Movida cittadina. Ancora, per quanto riguarda invece lo scandalo delle toghe, Palamara-Cantone, faccia a faccia, l'ex PM prova a far saltare l'udienza. Lo stralcio, il GIP Prutti, non aspetterà l'esito del procedimento disciplinare davanti al CSM per poi decidere, così si legge proprio sulla Nazione. I nodi da sciogliere sono tra questi l'utilizzabilità delle intercettazioni con i parlamentari. I PM registrati per caso non sapevano. Degli incontri, qui proprio il procuratore, il capo di Perugia, Raffaele Cantone, fotografato nel giorno dell'insediamento. Le accuse, corruzione e rivelazione, il procedimento per corruzione in corso. Oltre a Luca Palamara, sono indagati l'ex consigliere del CSM Luigi Spina, Adela Tisani, l'imprenditore Centofanti e Giancarlo Manfredonia. Poi il caso Duchini, il PM processo per nove, richiesto dalla Procura di Firenze, i reati, corruzione in atti giudiziari e varie altre ipotesi di reato in capo alle persone coinvolte nell'indagine. Ancora, imprenditore pericoloso, sequesto da 33 milioni, abbiamo già visto la vicenda con lo scatto dell'obbligo di soggiorno a Citerna per un periodo di tre anni. L'uomo vive abitualmente anche in parte del provento derivante da attività illecite. Quindi, né droga né psicofarmaci né dolcetti della mantide, le due presunte vittime sono arrivate in ospedale incoscienti, derubate dall'indagine emerso che entrambe conoscevano la donna. In foto la tossicologa Paola Melai l'è accusata di rapina e utilizzo di carte di credito, il marito invece di ricettazione. Passiamo al messaggero, studenti umbri da podio in primo piano, record diplomati con l'ode. L'analisi della maturità fa brillare la regione, 264 i super bravi. Le parole anche di Boccuto, grande senso di responsabilità dei ragazzi in una situazione straordinaria, ha dichiarato. Quindi, il confronto tra gli ultimi anni scolastici dice che i voti finali sono tutti in crescita per quanto riguarda la regione Umbria. Questo per quanto concerne la situazione dei maturandi. Giuseppina Boccuto, in precedenza, era dirigente del liceo classico Mariotti di Perugia, che ha fatto proprio un plauso ai tanti bravi studenti che si sono laureati in queste ultime settimane. Assicurazioni auto, invece, in due mesi i primi sono ricarati di 50 euro. Dopo il lockdown, tariffe in risalita a giugno quasi 500 euro, secondo l'osservatorio facile.it. Intanto in regione un tavolo, come abbiamo visto, tra sindacati e associazioni. Ancora la cronaca in primo piano sul messaggero. Rapine in villa, spello, mascherine e pistola bloccano imprenditore. Marito e moglie legati alle sedie e poi la razzia di contanti è molto oro. Per entrare in casa hanno simulato un guasto all'impianto elettrico. Si legge sempre sul quotidiano. Tutto è durato al massimo un quarto d'ora, 15 minuti di terrore con la coppia del commando. Poi la fuga dei balordi a bordo dell'auto della vittima, che sarebbe poi stata ritrovata in zona Cannara. Poco prima della fuga i malviventi avrebbero anche messo fuori giochi i telefoni delle vittime, così da ritardare i soccorsi e ricerche da parte delle forze dell'ordine. L'imprenditore e la moglie sono riusciti in qualche modo a liberarsi, erano stati legati e quindi a chiedere aiuto innescando l'intervento della polizia che sta indagando proprio sulla presunta banda che sta muovendo tali colpi. E poi tornando alle questioni che riguardano i processi delle toghe. Palamara, primo round alla procura di Perugia e battaglia sul Trojan per quanto riguarda proprio i cavilli, i casi del processo. Poi ancora bancarotte e riciclaggio, maxi sequestro a Caraffini per quanto riguarda le notizie in primo piano sui vari quotidiani. Vediamo allora le ulteriori notizie di carattere regionale, ripartendo dal Corriere, sagra di quattro giorni, ok alle nuove linee guida. Attesa l'ordinanza per la riapertura delle feste, sia anche a giornali, nei bar e nei locali pubblici. Mentre Umbria, seconda regione in Italia, per il voto collode. I primi dati sulla maturità riportati proprio anche dal Corriere. A Perugia il pavone sarà finito in primavera. La prossima settimana si firma il contratto con la ditta che realizzerà il secondo stralcio. L'intervento parte a settembre. Di cosa parliamo del più antico teatro cittadino a Perugia che aspetta il rifacimento degli interni dopo i lavori per il tetto. Qui proprio in foto il pavone immerso a Corso Vannucci. Umbria Jazz, inaugurate le due mostre parallele. L'evento musicale è previsto per il 19 luglio con la 243 Orchestra, le esposizioni sugli alberi e sullo smart design, si legge. Poi ancora iniziativa del Comune, bonus edilizia, task force per utilizzarli in foto. L'assessore all'urbanistica Margherita Scoccia, proprio del Comune di Perugia. Ancora da Perugia riconoscimenti a 25 cittadini. Cerimonia per le benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica. Che è il saluto anche del prefetto Sgaraglia. Qui ho vissuto due anni intensi, ha dichiarato. Momento solenne, il 2 giugno la prima azione era slittata a causa dell'emergenza sanitaria. E poi ancora la cronaca, sempre da Perugia. Spaccia a minore e lo costringe a rubare. Droga a scuola, pusher condannato a due anni e quattro mesi. La vittima per pagare il debito ha trafugato l'oro di famiglia. Si legge proprio sul Corriere. Che ricorda anche come c'è la nuova chiusura sul raccordo Perugia-Bettolle. Dove a partire da domenica 19 luglio saranno eseguiti interventi di risanamento sulla carreggiata in direzione Bettolle. Per circa 4 km. Tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo. Dunque traffico a una sola corsia. Questo per quanto riguarda quindi le notizie ancora da Perugia. Con questa ulteriore che riguarda il parco ripulito per dire grazie ai benefattori. Alcune persone assistite dal comitato Perugia Spesa Solidale hanno raccolto rifiuti lungo il Tevere. Proprio sul posto con tanto di striscione gli assistiti del gruppo ieri mattina a Ponte San Giovanni. Un modo per ripagare i bisognosi che sono stati aiutati solo da donazioni private. E' già il secondo giorno che un'area viene liberata dall'immondizia dunque. E poi Nottebrava a Corso Garibaldi si inaugura la piazza Condivisa. Queste le notizie dunque anche sul Corriere dell'Umbra per quanto riguarda la regione, quelle di carattere regionale. Torniamo alla Nazione sempre con gli ulteriori fatti raccontati dal quotidiano. Sempre con ulteriori aspetti che riguardano le altre notizie proprio sul quotidiano. La Nazione a partire proprio dalle sagre arriva in via libera ma al massimo per quattro giorni. Oggi la Presidente della regione firma l'ordinanza che riduce i termini. Difficile si inizi entro luglio le prime previste all'inizio di agosto. Secondo l'Unipli verrà organizzato solo il 20% delle feste. Domande più snelle saranno ferme 4 su 5 per quanto riguarda la particolare estate di sagre in Umbria post-Covid. Poi il bilancio del Comune buche dimezzata la spesa per i risarcimenti. Da 1,8 milioni del 2014 si è scese a 900 mila euro. Servizio riorganizzato e strade più percorribili. Le parole dell'assessore al bilancio comunale Cristina Bertinelli qui in foto. A breve un nuovo modulo per migliorare il rapporto con i cittadini intanto. Poi la viabilità e le infrastrutture della regione. Fonti Vegge sarà capoline FCU, lettera dell'assessore regionale ai trasporti a Bassitalia e RFI. Si potrebbe partire già con il nuovo orario, ha detto Melasecche proprio per quanto riguarda l'ex ferrovia centrale Umbra. E poi viadotto Montoro, riapertura record, traffico su entrambe le direzioni, solo in corsia di sorpasso per tutti i mezzi, anche pesanti, stop solo ai trasporti eccezionali. Dunque intanto il sindaco ringrazia i cittadini Anas, De Rebotti, plaudo alla velocità con cui sono stati eseguiti i lavori, ha dichiarato il primo cittadino di Narni. Ancora le eccellenze regionali, Vissani riapre il ristorante ma serve cibo e polemiche. Secondo il premier Conte non sarebbe stato lasciato indietro nessuno, non mi sembra sia andata proprio così. I nostri locali vanno sostenuti, ha detto il celebre chef Vissani qui in foto. Adesso spero di poter lavorare per arrivare almeno a coprire le spese di gestione, questi i suoi timori. Intanto c'è anche Padre Gambetti tra i 25 superumbri che brillano per meriti, consegnate le 25 onerificenze della Repubblica, il riconoscimento va a persone che si sono distinte in vari campi. Il prefetto Sgaraglia, questi atti rappresentano il riconoscere l'impegno dei cittadini, ha dichiarato. Questo per quanto riguarda dunque anche le notizie sulla nazione di carattere regionale, vediamo quelle sul messaggero. Anche qui il rilancio del verde, la spinta arriva dai cittadini volontari al Parco Sant'Angelo, nuovo chiosco e strada interna asfaltata. Ponte San Giovanni, i residenti domani ripuriranno il quartiere, il protagonismo di una comunità che torna a far vivere piccole oasi nei quartieri, raccontata proprio dal messaggero. Ancora Giardini degli Arconi, il verde diventerà a misura di famiglia per la riqualificazione dell'area, onerificenza al merito 25 insegnati in prefettura. E poi Maxi Cantiere sul raccordo, tra prepo e i volumni per quanto riguarda ancora i lavori di Anas, si tratta di rimuovere interamente il manto stradale per 60 cm, si legge proprio sul messaggero. Ancora, dolcetti a luci rosse, solo sesso e niente droga. Gli accertamenti sui dolcetti dimostrano l'assenza di sostanze per drogare le vittime, smentita l'ipotesi che la donna indagata avesse rapinato gli amici VIP dopo avergli fatto assaggiare i dolci, questo caso al centro delle indagini a Perugia. Il processo invece, pagami la marijuana o ti accoltello, spaccia a scuola, ragazzo condannato, in foto l'avvocato Zaganelli che sostiene proprio il ragazzo. Trovato morto a 30 anni intanto in centro, nella camera di un bed and breakfast, in centro storico dalle forze dell'ordine. Ancora, concerti, beatificazione a Cutis e strade, summit in prefettura, in foto il prefetto Sgaraglia. E poi a San Mariano, max investimento per la scuola in sicurezza, lavori in vista. Questo per quanto riguarda le notizie regionali. Apriamo i comprensori, lo facciamo con il servizio tratto dal nostro Tg di ieri sera, che riguarda il caso Rigest, perché sono arrivate le cassa integrazioni per i 15 lavoratori dell'azienda di Gualdo Tadino, finita al centro di un caso, di un processo nei mesi scorsi. Vediamo. C'è la cassa integrazione per i lavoratori della Rigest di Gualdo Tadino, l'azienda il cui titolare è finito al centro di un'inchiesta su un presunto giro di riciclaggio di rifiuti elettronici posta sotto sequestro nel gennaio scorso. Dopo sei mesi senza stipendio né ammortizzatori sociali, a cui i 15 lavoratori non avevano avuto accesso, ieri è stato siglato l'accordo interministeriale in sede di esame congiunto per l'accesso alla cassa integrazione straordinaria. E' un ammortizzatore straordinario previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge 109 del 2018, CD Decreto Genova, previsto per le aziende cessate a seguito di crisi aziendale. Tramite la Regione Umbria si è deciso ad accedere a questa cassa integrazione inserita all'interno delle politiche attive della Regione stessa e una legge particolare settoriale prevista per casi specifici, come ad esempio la cessazione dell'azienda a seguito di fallimento. Nell'accordo è stato richiesto e previsto il beneficio a far data dal 23 gennaio scorso, giorno in cui l'azienda è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria. A seguito dell'accordo dovrà essere inoltrata dall'amministratore giudiziario un'istanza al Ministero che dovrà emettere il decreto autorizzativo nel termine di 60 giorni. La firma dell'accordo lascia ben sperare, ma formalmente si dovrà attendere il decreto. All'interno dell'accordo siglato ieri è stato messo in chiaro che, sino ad oggi, tutte le strade intraprese si sono dimostrate impossibili da percorrere. Ora le politiche attive dovranno prevedere ad organizzare un programma composto da varie iniziative che i lavoratori saranno chiamati ad adempiere nel corso dei 12 mesi. Per l'avvocato Francesca Pieri, che sin dall'inizio ha seguito la vicenda assistendo legalmente alcuni dei dipendenti, la giornata di ieri è stata determinante e la sigla dell'accordo lascia ben sperare. I lavoratori si ritengono soddisfatti e sollevati per questa nuova ancora di salvezza resa possibile, anche e soprattutto grazie alla Regione Umbria, all'ARPA regionale e alle forze politiche, tutte che si sono interessate ed attivate per l'annosa vicenda. Non da ultimo il sindaco di Gualdo Tadino. La forzatura normativa nel far rientrare la situazione della RIGEST-SRL all'interno del decreto in questione è evidente, ma non c'era altra strada per aiutare e sostenere quei lavoratori da mesi e mesi senza stipendio, ha detto l'avvocato Pieri. La firma dell'accordo non solleva da subito le famiglie dei lavoratori dai problemi contingenti. I tempi sono abbastanza lunghi per percepire concretamente il contributo, considerando che per la maggior parte si tratta di famiglie a monoreddito che, ormai da troppi mesi, si ritrovano in una situazione drammatica. Questo dunque il servizio tratto dal Tg di ieri sera che riguardava proprio la nuova tappa del caso RIGEST a Gualdo Tadino con l'arrivo della cassa integrazione per i lavoratori dell'azienda. E ciò ci fa aprire proprio la pagina comprensoriale dai quotidiani regionali, Corriere dell'Umbria, Magione, Avis raddoppiano le donazioni. Nei primi sei mesi dell'anno sono salite del 103% rispetto al 2019, si contano anche 20 nuovi soci. Trend in positivo, il presidente Taborchi bene durante l'emergenza Covid dunque. Ancora da assesi, associazioni privati rianimano la città. Serie di eventi nelle fine settimana per tornare a far rivivere piazze, musei e luoghi di culto. Critica la Lega nei confronti del Comune è completamente assente nell'organizzazione di iniziative estive. Mentre per quanto riguarda la Movida Sicura è spulso un magrebino pluri pregiudicato proprio ad assisi. Passiamo invece alle notizie su Todi. L'ascensore ancora fermo, disagi per i turisti. Non si sblocca il contenzioso tra Comune e Gestore. Al centro storico si accede con le navette, ma i tempi di attesa sono lunghi. Lo stop non per un problema tecnico, ma per l'appalto della struttura. Tra le mete più visitate è quella di San Fortunato, ma servono orari di apertura più ampi, scrive proprio il Corriere. Mentre a Pantallo, ospedali, sindaci chiedono la reattivazione di tutti i servizi. Incontro con i vertici della sanità regionale. Questo dunque per quanto riguarda Todi. Ancora città di Castello. Rifiuti, differenziata, ok nel lockdown. Sogeppu tornerà ad offrire gratuitamente ai cittadini concime naturale che è stato ricavato dagli organici. Percentuale di raccolta stabile oltre il 66% dall'inizio dell'anno. Mentre morto Rodolfo Scarcelli, commerciante del centro, un'istituzione in città, aveva 91 anni. Oggi i funerali per 61 anni ha svolto la sua attività in corso. Vittorio Manuele. Ancora, sempre da città di Castello. Alta Umbria, campagna social con uno spot. La promozione per catturare i turisti. Il cuore verde batte ancora. Intende esaltare l'offerta del territorio. L'iniziativa da parte del GAL, Alta Umbria, della Presidente Giuliana Falaschi. Sono stati realizzati video rilanciati nelle piattaforme. Proprio le parole di Giuliana Falaschi, Presidente del GAL. Attivarsi immediatamente per essere competitivi, ha dichiarato. A Umbertide, aggressioni in bar del centro. Denunciato giovane straniero. Frereati, contestati, danneggiamento e minacce. Aggravate dunque. Passiamo a Gubbio, dove Santa Croce torna all'antico splendore. Si avvia verso la conclusione. Il restauro della chiesa, sede della confraternita, costato 2 milioni e 400 mila euro. Alcuni scatti che testimoniano proprio il restauro della chiesa. Più di 12 mila firme erano state raccolte dal FAI per chiedere gli interventi. Ecco come si presenta oggi l'edificio religioso. Dalle mure esterne agli interni decorati. Per quanto riguarda la riqualificazione di Santa Croce. Intanto, Palazzo dei Consoli, 1.121 ingressi in 14 giorni. L'attività del Museo Civico è da poco ripresa e i dati stanno già facendo registrare segnali incoraggianti. Sempre da Gubbio partite le opere di urbanizzazione nell'area di Santa Cecilia a Padule. Passiamo a Gualdo Tadino. Laghetto di Val Sorda devastato dai Pascoli. Intervenga il sindaco. Nuovo allarme della geologa Mara Loreti. Se non si bloccano, si rischiano di inquinare le sorgenti. Rocchetta e Capodacqua ha dichiarato. Che proprio lo stato dei luoghi, l'acqua ormai melmose della Ghett, usato come abbeveratoio, si legge proprio sul Corriere. La denuncia il 7 luglio scorso. Loreti ha scritto a tutte le istituzioni per il comitato. Le feci della mantra causano anche gravi problemi al turismo della zona. La situazione dunque sotto la lente di ingrandimento arriverà anche alle istituzioni. A Sigillo al via il centro estivo per i bambini tra i 6 e i 11 anni. Appuntamento nei locali della scuola di infanzia. Mentre non c'era Umbra, il Giardino delle Acque torna al centro delle serate estive. Uno dei luoghi di simbolo della città e punto di riferimento per tante iniziative con collaborazioni tra affociazioni e privati. In alto, si riprende anche la notizia della Rigest, arriva la Cassa Integrazione per gli ex dipendenti. L'azienda era stata sequestrata dai carabinieri del Noe. Dopo sei mesi ci sono finalmente gli ammortizzatori sociali per i lavoratori, come abbiamo visto anche nel nostro servizio. Andiamo a Foligno. La città perde anche cibi del mondo. Dopo il festival della birra che si terrà a Spoleto, è sicuro un altro trasloco annunciato dall'organizzatrice. Il sindaco Zuccarini, mai vietato niente a nessuno. Mariani, via non per mia scelta. Questo è il botta e risposta. Intanto la ristrutturazione, caserma Gonzaga, 21 milioni di lavori. L'impegno del sottosegretario della difesa, Calvisi, per gli interventi di recupero, sempre a Foligno. Mentre a Monte Falco, l'appuntamento è oggi il distretto rurale dell'Umbria, incontro promosso da Confagricoltura. Si parla dalle 15 di valorizzazione e di valorizzare lo sviluppo del territorio post-coronavirus, correlatori di fama nazionale. In foto Marco Caprai, nella sua azienda vitivinicola, tavola rotonda dalla competizione dei singoli alla competizione dei territori. Tantissimi gli ospiti, il presidente di Confagricoltura Nazionale Gian Santi, quello Umbro Rossi, passando poi anche per i presidenti della Camera di Commercio Mencaroni, della Fondazione Carifol, Tonti e poi tanti altri, tra cui anche l'assessore regionale all'agricoltura Morroni. Ancora da Foligno, la chiesa non è priva di guida. La diocesi sulla perplessità di alcune associazioni riguardo Sigismondi, in foto, amministratore apostolico. I fedeli vengono rassicurati, la vita ecclesiale prosegue serenamente e senza senso di smarrimento. Monsignor Gualtiero, Sigismondi si divide tra anche il Vescovato di Orvieto e Todi. Questo ha provocato dei malumori per l'appunto. A Spoleto, Spoleto-Campello, sblocco del raddoppio ferroviario. Il viceministro Cancelleri, in comune, promette che sarà operativo entro il 2021. Intanto per il valico della somma, 14 milioni stanziati dalla regione. Attesa infinita, si trascina da 16 anni e una vergogna si legge. Intanto sempre a Spoleto, liti in un bar, un uomo, finisce in ospedale. E poi ancora, cassa integrazione per i 156 operai, DMS e Isotta Fraschini. Altri 12 mesi di ammortizzatori sociali, la firma del decreto ministeriale per la concessione. Nei prossimi giorni. A Terni, anche qui la viabilità con la visita sempre di Cancelleri, riapre il viadotto, finiti i disagi. Il viceministro visita il cantiere sul raccordo e annuncia novità anche per il secondo tratto della Terni-Rieti. Martinetti idraulici decisivi per i lavori che hanno evitato la demolizione del pilone di 34 metri per quanto riguarda il viadotto. Intanto è tutto pronto per la zona traffico limitato nel weekend anche a Piediluco, sede di movimento turistico nella regione. Ancora, attenti ragazzi, oggi lo sballo è più pericoloso. La testimonianza di un ex tossicodipendente che 23 anni fa è rinato grazie alla cristoterapia di Don Pierino. La massiccia presenza sul mercato di sostanze sintetiche provoca danni irreparabili, ha detto proprio l'ex tossico. Ho iniziato con uno spinello e poi sono passato alla cocaina ed eroina in una via senza uscita. Ancora, sul caso studenti morti, la verità degli esami tossicologici. Proseguono le indagini mentre Aldo Romboli ieri ha ricevuto la visita in carcere della madre. Sempre a Terni torna il cinema sotto le stelle ma con meno posti a sedere. Appuntamento con i migliori film della stagione e il 18 agosto ci sarà un'anteprima nazionale. Poi la sanità, ospedale, pronta la squadra del nuovo commissario Chiarelli, Carlini, direttore amministrativo. Dunque per quanto riguarda l'ospedale Ternano. Quindi registrate 153 violazioni grazie alle fototrappole a Terni e poi Treofan. Prosegue lo sciopero, garantita la marcia degli impianti. Ore decisive per la sorte del sito Ternano dopo l'incontro al Mise. Da Baschi invece Vissani riapre e attacca il governo. Lo chef denuncia la nostra categoria trattata come i lebrosi. Ora si deve voltare pagina, ha detto proprio il noto chef qui in foto con il figlio Luca. Dopo cinque mesi di stop si recendono i fornelli ma il personale è stato ridotto di tre quarti. Fa notare proprio il corriere. Varchi ZTL a Orvieto da domani torna il controllo da remoto, si legge. Mentre a Narni in fiamme container pieno di rifiuti. Dopo l'incendio a San Liberato si è esprigionata una colonna di fumo. Si legge proprio sul corriere per quanto riguarda le notizie di carattere comprensoriale. Passiamo alla Nazione. Da Corciano, Bonfigli, più spazio all'istruzione. Sono iniziati a San Mariano i lavori per l'ampliamento del plesso scolastico. Un intervento da 780 mila euro in foto. Il sindaco di Corciano, Cristian Betti, con Anna Scani, sottosegretario all'istruzione del governo Conte. La struttura farà due piani con 4 nuove aule, spazi comuni e una grande aula polivalente, si legge. Da Assisi, grazie alla fanità territoriale post-covid, l'assessore regionale Coletto, visita all'ospedale di Assisi e il Palazzo della Salute di Bastia, qui proprio in foto Coletto in visita all'ospedale. Ancora, per quanto riguarda invece Gubbio, la zona Aldomoro, ora cambia volto. Ha approvato il programma urbanistico, nuove abitazioni e sistema delle aree pubbliche. Con in foto proprio l'assessore all'urbanistica, nonché vice sindaco di Gubbio, Alessia Tasso, che ha seguito il progetto. Intanto ripensare il tunnel, lo propone il consigliere Orfeo Goracci, dopo l'approvato del progetto in seconda commissione, per quanto riguarda la vicenda proprio della risalita del tunnel sotto la salita di San Giuseppe. Questo sempre da Gubbio, dove la Colace ha compiuto questa maxi operazione finanziaria da 45 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere costi e investimenti, intanto domani porte aperte a Ghigiano, per quanto riguarda l'argomento del combustibile CSS, che ci sarà dalle 9 alle 12 proprio una visita guidata in cementeria rivolta a chiunque intenda conoscere come si produce il cemento, quali sono i controlli qualitativi e ambientali, cosa sono e la composizione del combustibile solido. Secondario, questo domani mattina dalle 9 alle 12 a Ghigiano, come detto. Quindi, a Gualdo Tadino, chiesti chiarimenti al Comune sulla gestione dei Pascoli, come abbiamo già visto, Mara Loreti in foto tramite l'Avvocato Luca Salta Lamacchia. E poi ancora a Gubbio, Luca Uccellani nominato nuovo direttore della Caritas. Ringraziamo Don Roberto Revelant, che è stato il precedente direttore per il suo servizio, ha detto Luca Uccellani. Mentre non c'era Umbra, via i lavori per la segnaletica. Città di Castello, raccolta differenziata ok, con cime gratis per tutti, risultati positivi anche durante il lockdown e scatti il segnale di gratitudine. Sogeppu torna a regalare ai cittadini il fertilizzante ricavato a Bella Danza. Mentre Lignani Marchesani all'attacco a Città di Castello, Comune e nuovi servizi online, è già scoppiata la polemica. Ancora Alta Umbria, il cuore verde batte ancora sul web. Gal è partita la campagna promozionale che integra quella della regione. Info tra la presidente Gal Alta Umbria, Giuliana Falaschi. Cadetti social sono uno strumento che consente di fare promozioni molto efficaci e soprattutto modulabili sui target stabiliti. Queste le parole da parte di Giuliana Falaschi. La cronaca Umbertide. Entra nel bar e picchia una ragazza. Notte brava di un 28enne di origini marocchine, ubriaco, adatto in escandescenze. Ha distrutto su pellettili, aggredito anche il titolare, identificato e denunciato dagli agenti di polizia. Le dimissioni, solo una rotazione di ruoli. Cavedon, in foto della Lega, spiega la scelta di lasciare gli incarichi e assicura la giunta è saldissima, mentre un cippo in ricordo decaduti nel passaggio in Alto Teveri. Il Consiglio Comunale approva maggioranza. L'ordine del giorno di Castello cambia. A Foligno, restyling della caserma, investimento da 21 milioni. Le risorse serviranno per lavori di ammodernamento di quattro palazzine destinati ad alloggi e poliambulatori all'interno del centro di selezione. Qui proprio un scatto dell'interno del Gonzaga. Emanuele Prisco ha detto siamo molto soddisfatti che la nostra richiesta di attenzione sia stata ascoltata. Monte Falco, invece, Maxi Buco di bilancio. L'opposizione va all'attacco. Il sindaco Titta venga in consiglio e spieghi cosa è successo. ha detto Vincenzo Riommi, consigliere di minoranza del Comune di Monte Falco. Ancora le parole del Vice Ministro Giovanni Carlo Cancelleri. Quel cantiere è una vergogna. Giudizio duro del Vice Ministro sul liter del raddoppio ferroviario. La promessa finito entro il 2021. Previsti lavori di riqualificazione della strada statale Flaminia tra Spolete Terni per un importo da 14 milioni dunque. Ancora da Terni, ospedale, nuovo vertice, ecco squadra e obiettivi. Il commissario Chiarelli, in foto, illustra priorità e progetti, ma sulla sanità e bufera dalla CGL. Occhio alla riforma vacanziera della regione, dichiarano. E poi, quindi, da Orvieto, turismo, polemica sul marketing. Il video commissionato dalla Giunta a un'azienda di Genova fa infuriare le opposizioni, tra cui anche Cristina Croce, in foto, consigliera comunale, che ha detto ci si affida all'esterno come se la rupe non avesse professionalità. È costato 39 mila euro il suddetto video al centro di questo dibattito politico. Riforma della sanità, la CGL dice no, protesta all'ospedale Orvietano, mentre al Bricialdi di Terni, mercoledì, concerti streaming, l'istituto musicale Ternano non si è mai fermato, ricorda la nazione. Andiamo anche sul messaggero, dunque, con le ulteriori notizie di carattere comprensoriale, FCU, Capolinea, Fontivegge, Treni veloci, Melasecche, l'arrivo alla stazione di Perugia fondamentale per riconquistare utenti sfiduciati costretti all'uso delle auto. Il nodo dei quattro elettrotreni minuetto, pagati 16 milioni, inaccettabili siano fermi e in balia dei vandali, che puniremo, ha detto proprio Melasecche qui in foto, in visita proprio all'ex FCU. Ancora Assisi Summit con la Regione per potenziale l'ospedale, come abbiamo già visto, a Todi l'intervista al generale Adriano Ruspolini in quota Lega e vice sindaco di Todi. Per la Lega a Todi basta, yes man, ha detto Ruspolini. Assisi ancora, Movida Sicura, Blitz nei bar e pub bloccato, super spacciatore già espulso. Un vertide e scontro in comune, ma non siano i cittadini a pagare dopo le dimissioni di Lorenzo Cavedon da capogruppo della Lega. A Gubbio invece villette verde e marciapiedi, restyling dell'area est, il progetto della zona Aldomoro, seguito come visto dall'assessore e vice sindaco Alessia Tasso. Quindi da Foligno, caserma Gonzaga, interventi post-sisma per 21 milioni di euro. Le opere interesseranno quattro palazzine destinate agli alloggi ai poliambulatori del centro di selezione. La novità arriva dal sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi in risposta ad un'interrogazione. Dolore intanto per la scomparsa di Lellino, il pasticcere volto noto in città e sulle ali del canto suonando Paganini per quanto riguarda il concerto denominato al punto sulle ali del canto all'auditorium di San Domenico. Questo a Foligno, a Spoleto, ZTL chiusa, a metà nel weekend scatta la rabbia degli operatori. Il provvedimento contro la movida selvaggia non convince i ristoratori che dicono siamo penalizzati. In Piazza del Mercato, invece, gli esercenti chiedono al Comune delle misure antidegrado. In alcune vie del centro, a tarda notte, si registrano schiamazzi e situazioni che disturbano i residenti e minano anche il decoro della zona spoletina. Intanto, ex Pozzi, un anno di cassa integrazione. Per quanto riguarda il tema dell'istruzione, nessun sdoppiamento delle classi. Puntiamo sulla didattica innovativa. Da Terni, invece, la morte di Gianluca e Flavio, l'eco, continua ad essere davvero forte. Indagini su versione del pusher. Gli investigatori sono a caccia di riscontri del racconto fatto da Aldo Maria Romboli. Il tossicodipendente ternano ha affermato di aver già ceduto ai due dosi di metadone. Intanto, striscioni in città proprio contro la droga. E per la festa degli studenti, pioggia di critiche, non si doveva fare dopo il decesso dei due ragazzi. Tanti interventi per criticare l'organizzazione dell'evento serviva una pausa di riflessione. Invece, il ride alla Faram, sempre di Terni, doppio colpo, bottino ingente, furto al punto vendita di Vianarni e a quello di Rieti, rubate bici per un valore da 30 mila euro. Ancora, vedo Otto Montoro, ritorno alla normalità. La vista del viceministro Cancellieri, interventi da completare ma senza stoppare il traffico. Lavori record, riapre solo un senso di marcia per Corsia. ANAF ha utilizzato una tecnica innovativa per accelerare i tempi ed evitare la demolizione. Mentre per la Terni Rieti si apre entro ottobre per l'altro nodo viario della zona. Santa Maria, dopo la Socci, arriva da Ferrara a Carlini, sostituzione Lampo da parte del commissario Pasquale Chiarelli che sceglie un manager USL. Sandro Vendetti, unico Ternan al timone, è stato confermato alla guida della direzione sanitaria. Piedeluco, intanto, cresce il malcontento, frazione dimenticata. Causa l'ufficio postale che non regge le richieste di residenti turisti contro il senso unico, parte la petizione indirizzata proprio al comune. Carzule, Celestini, apre la stagione dal 2 agosto, sei spettacoli al tramonto, il 14 agosto arriva anche Pietrangelo, buttafuoco dunque per l'estate ternana. Amelia, trovati invece i primi finanziamenti per la ricostruzione delle mura ciclopiche. Orvietolo, spotta peso d'oro, il sindaco finisce sotto accusa, come abbiamo già visto. e quindi Borgo Rivo, taglio del nastro del parco dedicato a Charlie. L'area adiacente a Piazza della Meridiana è stata dedicata a Giorgio Sidori, conosciuto da tutti. Questo per quanto riguarda dunque le notizie anche dei comprensori dal messaggero. e noi chiudiamo questa prima parte con le notizie che invece dai quotidiani parlano di intrattenimento, spettacoli e cultura e anche degli eventi che ci saranno nella regione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Dall'album del Corriere, il tema del viaggio per ripartire, Arts Contemporanea 2020, presentata la quarta edizione che si terrà a Castiglione del Lago dal 24 al 26 di luglio. Si legge proprio sul quotidiano, collaborazione con il Comune di Cortona, sancita dall'assessore Francesco Attesti. Verrà premiato il noto attore Maurizio Mattioli sul palco, anche la compagnia Manni Ossoli per quanto riguarda dunque Arts Contemporanea 2020 a Castiglione del Lago. E nasce l'intesa culturale con il Comune di Cortona, ricorda proprio il Corriere, in prima nazionale, lo ammetto, ho tentato di essere felice, questo dunque il libro di Gianluca Brundo dunque che sarà in prima proprio a Castiglione del Lago. Quindi il messaggero ricorda invece la musica che riconquista la piazza, Gersin e August aspettando Umbria Gers 2021, il festival dedica quattro giorni ai musicisti italiani, si parte il 7 agosto con Greta Panetteri, ricorda proprio il messaggero. Ci sarà anche Stefano Bollani qui in foto verticale a sinistra, mentre in quella orizzontale Danilo Rea che si esibirà con i suoi fancoff. Laurenze abbiamo dato vita a qualcosa che fosse compatibile con le attuali prescrizioni sanitarie, ha ricordato. Gran finale a San Lorenzo con un trio storico composto da Paoli, Rea e Bosso. E poi ancora salti di qualità, la notte piccola con Dardast sotto la luce di Moon in June, per quanto riguarda anche qui Castiglione del Lago che si accende con gli spettacoli. Gersin e August ricordato anche dalla Nazione, così Umbria Gers rilancia le notti di Perugia, con appunto tra gli artisti anche qui Stefano Bollani nella foto in alto e Gianluca Petrella che si esibiranno a Perugia. Mentre ad Assisi, Bosco di San Francesco, la Bat Night apre la rassegna. D'estate e poi ancora a Perugia il Festival sale in cattedra all'università, due mostre tra design e alberi, aspettando Fresu. Inaugurata a Palazzo Murena le singolari esposizioni che fanno da completamento a 243 and Orchestra, questi gli datori proprio della mostra Umbria Gets Smart Design qui in foto. Ancora in viaggio con Arts Contemporanea, Teatro Cinema Libre Incontri per il Festival in Scena a Castiglione del Lago. Il sindaco Burico ripartiamo con la cultura, ha dichiarato qui Marta Ossoli nella foto centrale, anche Maurizio Matteoli in basso, tre protagonisti di Arts Contemporanea. Spettacoli in prima nazionale, proiezioni ai grandi ospiti da venerdì 24 a domenica 26 di luglio. A Spoleti invece quegli amori in corso allo spazio Callicola domani alle 18.45 con il concerto del pianista Egidio Flamini e il mezzo soprano Elisabetta Pallucchi. Ancora a Perugia tornano le visite guidate alla Galleria Nazionale. Si comincia il 23 luglio, poi il 6 e il 20 agosto alla scoperta delle collezioni di Taddeo di Bartolo. Questo per quanto riguarda dunque cultura, spettacolo e intrattenimento. Ora pubblicità, poi torniamo con la seconda parte sport in primo piano.